Sul conio del dollaro si legge in God we trust, che vuol dire non crediamo ma confidiamo in Dio, affermazione relativamente recente che ha scatenato il costante fuoco incrociato di credenti e date indispettiti per posti evidenti motivi. Ancora una volta la Corte d'Appello federale statunitense ha detto che la frasetta è costituzionale, evocandone un uso non coercitivo. La notizia è quindi che la sentenza dell'Ottava Corte d'Appello del Minnesota ha respinto le richieste di diverse personalità e gruppi di non credenti. La frase sembrerebbe contraddire il primo emendamento costituzionale statunitense sulla libertà religiosa che in realtà non vieta alcuna religione. Contrario alla frase era stato anche il presidente Roosevelt che non voleva mai mischiare sacro e profano.